Oggi di Ricca Chai Chai si fa la pasta alla casa legge, zucca, guanciale, aglio, castagne, rosmarino, salvia e pecorino romano. Il taglio non è importante perché tanto è nella casa legge. Il grasso del guanciale. I'm a believer, and not a trace, a doubt in my mind, I'm in love, I'm a believer, I couldn't leave her if I tried.